Grazie a tutti. Questa è l'altalena all'interno di una partita che stiamo vivendo anche durante tutto il campionato. Per perdere in casa una partita così è solo da chiedere scusa. Si è cambiato qualcosa nel modulo tattico anche nel primo tempo con Bernabé e Vázquez ai tuoi lati. Vi trovate meglio, al di là dell'aspetto mentale che è veramente un rebus, ma tatticamente vi trovate meglio con queste modifiche leggere che ha fatto il mister? Sì, con tutti mi trovo bene. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, ma niente, volevamo la vittoria e abbiamo perso. Ciao, Nawil. Io ammiro sempre la tua calma, la tua concentrazione, la tua precisione. Lo sai, anche oggi le hai messe agli occhi di tutti. Secondo me la tua prova è stata positiva, ma è stata completamente diversa da quella dei tuoi compagni. Alcuni di questi li ho visti proprio in confusione. No, no, io penso che la squadra secondo tempo dopo il gol abbiamo riuscito, abbiamo creato tante situazioni. Però ci manca lì un po' di cattiveria per fare gol da parte di tutti. Niente, non c'è molto da dire, veramente. Solo chiedere scusa alla gente e basta. Due settimane fa Gigi Buffon era venuto qua davanti a noi in conferenza, ha fatto un discorso importante. E immagino che poi l'avesse fatto anche prima o dopo, ci sia stata occasione di farlo negli spogliatoi. Voi come avete agito? Perché quello potrebbe essere un po' l'episodio fuori dal campo della possibile svolta, anche a livello mentale. Sì, sì, certo. Come ha detto Gigi, il tema della testa, non abbiamo un equilibrio, non possiamo fare due risultati in fila, tre risultati in fila. E quello lo dobbiamo lavorare, perché abbiamo tutto per farlo, ma non lo facciamo. Qualcosa sta mancando e dobbiamo lavorare e dobbiamo vedere cosa succede, perché non si può continuare così. Ciao Nawel, ti chiedo com'è andato il confronto sotto la curva con i tifosi subito dopo la partita. No, come ti ho detto, noi dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi, perché sempre sono con noi, di fianco a noi. Ha venuto tanta gente in casa, noi non possiamo fare questa vittoria, è pesante. È normale, la gente hanno ragione. Noi dobbiamo chiedere scusa, lavorare e mettere nella fascia. A di là di tutto, quanto è frustrante non riuscire a trovare questa benedetta continuità di risultati. Al di là delle belle parole, di quello che si dice, però si fa veramente fatica. Sì, sì, per tutti, per tutti è difficile, perché tutti vogliamo fare due risultati in fila, perché lavoriamo per quello. E tante volte lo meritiamo, ma il calcio non è merito. Il calcio lo devi fare. E noi sta mancando un po' di tutto. Perché se no, niente, penso che sta mancando un po' di tutto e dobbiamo migliorare e farci responsabili di questa situazione. Grazie.